Si è svegliata sempre con Erdogan al potere, la Turchia. Il ballottaggio presidenziale lo ha riconfermato guida indiscussa del paese, con il 52,1% delle preferenze. Si è fermato invece al 47,8% il rivale Kemal, Kulic Darolu, che ha potuto contare su pochissimi spazi di campagna elettorale. Ancora alta in questo secondo turno, l'affluenza alle urne, ha partecipato l'85% dei votanti. Con questa vittoria si è aperta la porta del secolo turco, ha detto Recep Tayyip Erdogan. Difenderemo la famiglia da chiunque osi toccarla, ha promesso ai suoi sostenitori accorsi per celebrarlo per questo terzo mandato, ottenuto però solo al ballottaggio questa volta. Assicura che continuerà la lotta il leader dell'opposizione, Kulic Darolu, che si è detto triste per il futuro del paese. Una Turchia colpita duramente dal sismo e da una crisi economica con l'inflazione che corre. L'ira turca anche oggi segna nuovi record negativi sul dollaro. Arrivano intanto le congratulazioni da più parti nel mondo a Erdogan, che resta il leader di un paese chiave negli equilibri internazionali per la sua presenza tra l'altro nella Nato e per il dialogo con la Russia di Putin.